Libera subito le bestiole, Eggman! Se proprio esisti! Che malvagio! Dobbiamo tornare a prenderla! Sei prevedibile! Molto! Devono piacere davvero tanto! Bravo! Già presi! Chiavi di porta! Wow! Che cosa c'è tra le nuvole? Deve essere l'esamondo perduto! Bello! Meno chiacchiere, più atterraggi! Va bene, ora atterriamo! Ma si ballerà un po'! Oh, tu scopi! Prevedibile! Come si trattata! Bai suoi! C'è la sua paura! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione!